Il significato di questa iniziativa è di spiegare perché l'abbiamo fatta e perché vogliamo in qualche modo dare un seguito a questo nostro appuntamento di oggi. Noi consideriamo questa come una tappa di un percorso, insomma di un viaggio che sarà a un viaggio che riguarderà tutti noi nei prossimi due anni e che ci dovrà far arrivare nel 2013 a proporre alla città di Roma un'idea alternativa di governo di questa città. Questo è il punto fondamentale, quindi oggi più che parlare dell'opposizione, affronta tutti i nodi cruciali dello sviluppo di Nuova Etropoli, in termini, in primo luogo, di sviluppo urbano, cioè di come noi andiamo a governare l'allargamento della città in modo che non sia dispersivo, in modo che non sia caotico, i temi della sostenibilità ambientale, che è il tema fondamentale dello sviluppo delle grandi città europee e mondiali, i temi anche dell'equilibrio sociale e anche della qualità della vita delle città. Poi se voi conoscete se ci sono delle proposte da questo punto di vista, c'è stata un'assenza, veramente un'assenza strategia di qualsiasi tipo di proposta da questo punto di vista. se noi escludiamo le opere che sono state progettate e cantinate dal centro-sinistra rispetto per esempio alle metro, rispetto per esempio al rifacimento di alcune stazioni come quella di Portina e di Termini, noi non vediamo nessun tipo di proposta fatta a livello cittadino dal nostro sindaco. E vediamo dall'altro invece una politica che si è fondata su due assi. Il primo, quello dell'umiliazione del servizio pubblico. Insomma è evidente, io non voglio fare propaganda e parlare di quello che è su tutti i giornali in questi giorni rispetto per esempio all'Atac. Ma è evidente che il servizio pubblico in questi anni ha avuto un tracollo, un tracollo da un punto di vista di sostenibilità economica, un tracollo perché non c'è stata alcun tipo di riorganizzazione, per esempio nella rete degli autobus, un tracollo perché la cosiddetta cura del ferro si è completamente bloccata in questi anni. Per esempio il tema della metro D. Il nostro sindaco ci diceva che si farà. La metro D che dovrebbe in qualche modo servire i nostri quartieri si farà, ma non partirà da qui, partirà dal nord della città e probabilmente verrà rivisto il tracciato e dovrà servire il quadrante olimpico. Allora il punto è anche qual è la priorità degli interventi che si faranno perché ci sono i soldi, perché i soldi si dovranno trovare e perché comunque sia la sindaco olimpica richiederà uno sviluppo di questa città. Quando si faranno questi interventi, dove si faranno e come si faranno? Tutta questa filippica sui giornali per il tram che si sposta di 400 metri dall'arco d'argentino a Piazza Venezia va benissimo, ma poi il progetto che sta nel piano strategico del Comune di Roma che doveva portare il tramotto a Marconi e doveva in qualche modo liberare dall'occupazione massiccia delle macchine, sta lì morto e nessuno ci dice il perché quel progetto sta lì morto e perché quel progetto che potrebbe unire un asse strategico che è quello che va dalla Gianluenza fino a Roma 3, nessuno lo prende in considerazione. E poi il terzo punto, il punto fondamentale, che è quello del ponte dei congressi, cioè noi dobbiamo risolvere quel nodo, perché non è pensabile che chiunque debba andare verso l'euro, debba andare verso il fiumicino e non passa per il raccordo, si trova imbottigliato a perdere ore e ore la propria vita in quel colo di bottiglia. Si tratta su questi temi a battere e a fare una mobilitazione più possibile diffusa. Noi speravamo che oggi fosse il consigliere Valeriani che si scusa perché ha avuto un imprevisto personale, non è tutto da essere qui, però attraverso i nostri eventi che qua ci sono, insomma io vedo tantissimi consiglieri municipali, vedo l'assessore Trappari e saluto, vedo l'assessore Camilli, insomma io credo che noi all'interno del municipio dobbiamo riportare all'interno del consiglio queste battaglie.